Dico, aiutami, ti prego? Ecco, 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 c'è lì, ecco, sta buona, amore, sta buona. Attenzione. Ecco, buona. Le gambe! Nonna! Mi si piegano le gambe, aiutami. Nonna! Scusa, scusa, aspetta. Nonna! Ma tu ci riempi aiutami, che mi muoia, stavo un battolino, è qua. Corri, aiutami. Ma che succede? Dai, apri la porta, chiama nonna, ma strilla, che sono? Non si preoccupa di me, non ci penso che io, sui. Mi possiamo chiesto, casino. Dio una mano, signora! Questo è un intervento molto particolare, si tratta di una stenosi mitralica. Asano, operatoria. Secondo piano. Listo. Che cosa c'è? Ma lei è pazzo. E lei è un assassino, professore. Parecialo, ma cosa dice? Lei vede i delinquenti dappertutto. Guardi che sta prendendo un gracchio colossale, sa. Se viene con me un attimo, le posso spiegare tutto. Un attimo solo. Non lo berate che questo non c'è niente, capito? Grazie. Guardi. Guardi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.